Vi è mai capitato di ascoltare una persona che apre continuamente delle parentesi e a un certo punto non ricorda da dove era partito il suo discorso? No? Vi è mai capitato? Può succedere quando la nostra natura è proprio quella, cioè ci capita di farlo sempre, di aprire parentesi. È proprio il nostro modo di comunicare. Oppure ci può capitare quando siamo in uno stato di agitazione, tipo quello che succede durante il public speaking. Allora andiamo in cortocircuito, non ricordiamo più nulla, vogliamo essere performativi, ma andiamo in palla e cominciamo ad aprire parentesi. In tutti e due i casi suggerisco normalmente di lavorare su questa cosa. Sono d'accordo con questa regola d'oro. È utilissima, soprattutto al giorno d'oggi in cui la soglia di attenzione del pubblico si è enormemente abbassata. Tutto è veloce. È chiaro, non dobbiamo essere anche noi, non dobbiamo velocizzare quello che facciamo, dobbiamo però vedere.